Il bilancio della prima seduta della commissione d'inchiesta sull'emergenza idrica è già pesantissimo. Oggi abbiamo scoperto che nessuna società di gestione ha assunto un ingegnere idraulico. Abbiamo anche scoperto che le società di gestione per trasmettere i dati allersi, i dati contabili per il controllo analogo e l'analisi appunto dei bilanci hanno impiegato fino a sei mesi. Abbiamo scoperto che la Ruzzo che ha annunciato una settimana fa le diminuzioni delle tariffe fino al 10% a meno 10% non poteva annunciarlo perché non c'è stata di fatto alcuna riduzione perché non è compito della società di gestione ridurre le tariffe ma è appunto compito dell'Ersi e di Arera e abbiamo anche scoperto, ce l'ha detto il presidente di Ersi Merolli, che CAM è a rischio fallimento. Pensavamo che sei mesi non fossero sufficienti per sviscerare tutti i problemi della gestione del sistema idrico in Abruzzo, forse sono troppi perché già il primo giorno abbiamo scoperto tutte queste cose.